nel settore di marketing che chiamiamo linee coordinate o comunque coordinamento di immagini trovare di una linea quasi degli anni 50 quasi tutti i pezzi mi posso assicurare che non è che si vanno ai mercatini e si trova così, è una ricerca abbastanza ronosa che però porta a soddisfazioni anche il mondo della sconsigliazione non solo dell'attivisione ma anche dello sport io sono mestrino quindi tifavo Vidal, devo dirlo, anche se avevo zorti perché è stato all'epoca un meccanismo ingegnoso verrà pubblicizzata quando verrà aperta al pubblico eh sì 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 adesso una volta stabilita la data per l'inaugurazione poi faremo la dovuta pubblicità e anche sì una conferenza stampa